Ha preso il via dalla casa famiglia Emanuela nell'ex convento dei Cappuccini a Campli il tour terramano del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Una comunità che ospita otto ragazzi disabili, struttura sonvenzionata da donazioni private e dalla comunità Papa Giovanni XXIII, che da anni garantisce assistenza e vicinanza come una vera famiglia a giovani anche sofferenti di gravi patologie. Accolta da tanti ragazzi delle scuole elementari camplesi, il ministro ha anche inaugurato con il taglio del nastro il nuovo mezzo per il trasporto disabili acquistato dal comune con fondi regionali. La rete e le forze che si creano tra le istituzioni, il mondo del terzo settore e anche il mondo privato, i singoli cittadini, sono davvero un punto di valore prezioso per tutti noi perché all'interno di queste reti e di queste sinergie riusciamo a trovare delle risposte concrete per i cittadini, ma soprattutto io voglio girare tutto il paese per testimoniare anche un cambio di prospettiva, non solo nell'aiuto ma anche nella valorizzazione della persona. L'occasione è stata anche quella di parlare del lavoro che il governo sta portando avanti sul tema della disabilità. Siamo in direttura d'arrivo con i decreti attuativi della legge delega, proprio il decreto più importante quello che riguarda la valutazione dell'invalidità civile e l'introduzione del progetto di vita è in questo momento al Consiglio di Stato, ha già ottenuto l'intesa in conferenza unificata e presto andrà per il parere alle commissioni parlamentari per tornare poi entro un mese, un mese e mezzo, insomma entro diciamo aprile spero entro fine aprile in Consiglio dei Ministri ad essere approvato. Dal 2025 inizieremo poi la sperimentazione su sei province in tutta Italia e questo consiste in una grande semplificazione e anche in quel cambio di prospettiva di cui cambiavo prima perché il progetto di vita terra insieme tutta la parte sanitaria, socio-sanitaria e sociale delle persone. Serve però tanta formazione e tanto impegno a tutti i livelli, anche di chi lavora negli uffici è ora di iniziare a pensare che non ci possono essere confini fissi, che quando si tratta di una persona bisogna fare diciamo rete, compenetrare i temi e ragionare insieme. Tornerà a far visita agli amici, possiamo dire così, di Rurabilandia? Ah sì, sono felicissima di rivederli. Mi hanno scritto loro perché hanno saputo che ero in zona e per me è un'occasione meravigliosa perché poi spesso incontro realtà nuove e conosco diciamo attività diverse e che non avevo ancora incontrato. Rurabilandia l'ho già incontrato ma sono anche curiosa di vedere che cosa è stato fatto in questi anni e sono sicura cose meravigliose.